In partenza Magic Fighter LF tiene chiaramente la corda nei confronti di Montelimar che precede Malizia Piel e Fonseca R. Allargo Le Figaro GT, galoppo di Malizia Piel e così Le Figaro si accoda in terza posizione a precedere Fonseca. Lancio in 15-1, Fonseca R ha mosso allargo per non rimanere chiuso. Il primo quarto è passato in 31-1, l'avanzata di Juli Monamur che si trascina proprio Fonseca mentre ha avuto un intralcio forte Cappaggett che retrocede. Seicento in 46-1, Magic Fighter a controllare con ai fianchi Juli Monamur, poi Montelimar seconda pariglia esterna Fonseca R. Terza pariglia per Lullini del Pitin. Giro di pista in 1-2-1, Magic Fighter LF da favorito a comandare. Montelimar lungo la corda, allargo Juli Monamur che si trascina Fonseca. Chilometro in 18-1, Magic Fighter comincia ad allungare la mossa in terza di Fonseca. Fonseca spinge Juli Monamur su Magic Fighter, tre cavalli quasi su di una linea, a metà della piegata conclusiva. Poi Juli Monamur insiste, Fonseca si ritrae. Fasi conclusive, Magic Fighter Juli Monamur si ripropone Fonseca a centropista, Fonseca va su i primi, passa Fonseca R che va a concludere nei confronti di Juli Monamur mentre per il terzo, su di una linea, Magic Fighter e Montelimar. Media conclusiva che dovrebbe aggirarsi intorno all'1-17-1. Fonseca R ed Enrico Maisto a chiudere il convegno del training di Antonio Improda, i colori del signor Cesarano Francesco.